Caccia play, premi like, ci stanno le tigre online Clicca e condividi uomo che non basta mai Ma ma Maximilchia sta a capo di tutto il branco Qui non basta il rango alto Se a giocare non si scaltro è un break Matalo, matalo Camperon dietro la crew E di iscriverti al canale Maximilch su Youtube Se non vedi tutto e di più Forza fallo pure tu Perché con le tigre di Roma stare sempre un pass in più Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi E questo è il risultato del FIFA Contest Che ho diciamo chiamato la settimana scorsa No ragazzi Quindi andiamo a chiudere il contest Vedete l'ora E andiamo ad estrarre il vincitore Allora Voglio precisare che chiunque vinca ragazzi Non mi deve rompere i coglioni Come ha fatto il vincitore della settimana scorsa È stato uno stalker terrificante Che se per me si è cancellato al canale Mi fa pure in favore perché mi ha bella rotti i coglioni Come se io non dessi i crediti alle persone Come se io fossi una persona che mi metto lì A rubare i crediti Allora ragazzi io questi crediti non li sto rubando a nessuno Mi sto dando i miei crediti Quindi Chiunque vincesse è pregato di non rompermi i coglioni Messaggi giorno e notte su Facebook Su PSN Da per tutto Su Youtube È come se io fossi un ladro che non do le cose Purtroppo capisco che questo è un comportamento da bimbo minchia Perché quello che ha vinto lo scorso contest è un bimbo minchia Quindi ripeto Se ti cancelli dal canale mi fai anche il cazzo del favore E detto questo ragazzi mi raccomando Non mi stalkerate con i messaggi perché io Vi do quello che vi prometto Senza nessun problema Ora passiamo al resto del contest Ci tenevo a dire questa cosa perché veramente mi ha reso la vita impossibile Per 30.000 crediti Vottiti Tu e i tuoi 30.000 crediti E quindi nulla ragazzi Allora andiamo a A estrarre il vincitore di questa settimana Ritorniamo nella normalità ragazzi Però lo dovevo dire perché non lo sopportato più Lo giuro ragazzi Ma veramente stalkerato Ma poi con ignoranza assurda Che è la cosa che odio di più L'ignoranza A me non interessa se tu sei bambino Non sei bambino Ma se tu rispetti me io rispetto tu E l'ignoranza non ci deve essere ragazzi Allora Oggi estrarò con un nuovo sito Quindi andrò ad estrarre con Con questo nuovo sito Ho voluto provarlo Vediamo come va E andiamo ad incollare il link ragazzi E' semplicissimo Basterà incollare il link Vi faccio vedere sempre ora Per rendervi conto che è in tempo reale E andiamo a A vedere questo nuovo sito ragazzi Che mi sembrava un pochino più elaborato Però Vedremo insomma Questo è il primo contest che estrargo con questo sito Quindi Vedremo come andrà Allora ragazzi C'è il pc che è un po' lento Anche perchè non posso Registrare con Cantasia Sto registrando con un altro programma Che mi rallenta notevolmente Ancora di più di Cantasia Il pc Poi c'è un casino di problemi Con il pc Anche per questo motivo Ultimamente non carico video Quindi nulla Però ragazzi Ricordatevi che ci sono sempre Due contest a settimana Uno di GTA e uno di FIFA Lo faccio sempre Quindi Il tempo per voi Lo trovo comunque Poi se ci sono glitch nuovi Li porto C'è anche un glitch nuovo Un glitch Che ricaricherò sul canale Ma non è nuovo ragazzi Un glitch dei soldi per GTA Che non è nuovo Lo ricarico sul canale Ma Vi ricordo che Sono due mesi Che c'è questo glitch Quindi Non vi stupite Se le persone Caricano questo glitch Ma è vecchissimo Quindi niente ragazzi Abbiamo il vincitore Abbiamo il vincitore Andiamo a verificare Se il vincitore Ha tutti i requisiti Ragazzi I requisiti Lo sapete benissimo Quali sono I requisiti Sono di Avere Il canale aperto Il canale pubblico In maniera tale Che io posso verificare Se Avete lasciato un like Al mio video E Posso vedere Se siete iscritti Al mio canale Allora Vi spiego una cosa Quando voi lasciate like Ragazzi Ai video Vanno direttamente Nella vostra lista preferiti Quindi automaticamente Cioè Nella vostra Lista video piaciuti Scusatemi ragazzi Quindi automaticamente Io posso vedere Se voi avete La lista pubblica Posso vedere La lista dei video Che vi sono piaciuti E la lista delle iscrizioni Allora Andiamo a vedere E andiamo a vedere Che qui Già abbiamo il video Carica stento Però Già abbiamo il video E qui abbiamo Iscrizione Ragazzi Quindi A me sembra Che questo utente Abbia tutto regolare Abbiamo tutti quanti Come si dice I requisiti Al posto giusto Per vincere Questi 30.000 Crediti Contattami Su PSN Aggiungimi Su PSN Il mio nick Lo trovi Qui su YouTube Sotto un Cazzo di video Non so Vedete E mi raccomando Non stalkerarmi Detto questo ragazzi Vi lascio un saluto a tutti E al prossimo contest Che uscirà domani Il prossimo contest a FIFA Quindi non mancate Domani Lancerò un altro contest a FIFA Ciao a tutti E al prossimo video